Sta tornando, ma sentiamo che cosa ha da dire il nostro inviato Certo Johnny, è ovvio che sta tornando Abbiamo qua un rilascio audio che ci ha fatto Perché non voleva essere visto in video Eccola voi E' acceso sto cosa? Dovrebbe Sì, comunque sia, le fonti sono certe Sto tornando, mi sto mettendo in attività Si dice... Non è che si vocifra Ma dico io che da di qui a poco potrei anche mettermi a registrare La prossima parte di Spider-Man Edge of Time Riferitelo sul vostro canale che così io possa farlo sapere a tutti E ricordatevi che appena è finito Spider-Man Edge of Time Finirò Pokémon Rumble E mettete anche questa clip audio Che non so ancora cosa farò dopo Pokémon Rumble Ci penserò quando sarà finito Quindi grazie per avermi lasciato questa intervista Hai visto? Ecco qua la tua intervista per Magic Final... Da Magic Final Gamer Scusate l'impappinamento Ma sapete, dopo tanti anni può capitare qualche flop mentre si parla Comunque sia, te la linea, Jeremy Ok, grazie Johnny Comunque sia, questa era da voi TG Magic Ciao